La stampa la vedo molto male oggi, eh? Certo che tu metti proprio molta allegria addosso all'agenda. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiamo i crisi andeni. Ti ho comprato i primi di novembre, per cortesia cerca di non gufare continuamente. Se no ti faccio rimanere nell'oculo tutta la pagina tutta la vita. Ah! Ma che? Niente, più ore. No, tu le stai chiedendo. No, ho segnato Aristoteles. Mister! Mister! No, 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 no Grazie a tutti.